ma tipo non deve essere fattigata no no orizzontale guarda abbraccio fuori così più lontano è mangiare allora io la tengo così ok orizzontale buono fuori si si fuori tipo così più lontano è mangiare via e allora eccolo qua questo ragazzo che farà la ferata con l'infradito abbiamo deciso non sapeva che era freddo non sapeva che era freddo io l'avevo anche chiesto io mi avevo detto a mettere le barche lunghe per così non prendere strisciate perché per se non avrei messo quella corna insieme allora per mettere l'imbraio bisogna infilare prima i cosciali bravo dopodiché si prendono il ventrale i ventrali si stringe a sufficienza nel frattempo lui ha già fatto un nodo oh vai io penso solo per imparare qua ce la sono in mezzo a professionisti proprio di anni e anni esperienza ma quante patate erano in quanto patate è e qui invece è per il Lorenz che ci sta non vedo un cazzo esperienza sensoriali ecco vedi questo è un buon accordo 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 è un buon accordo questo è un buon accordo Grazie a tutti. Alla, al primo colpo. 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 Alla, al primo colpo.